Colti in flagranza dopo aver rubato un materiale d'ile dal cantiere di una struttura in costruzione nel parcheggio del City Moda, a segnalare la presenza di quattro ladri tutti i ventenni alla telefonata anonima di un cittadino. La polizia, arrivata intorno alla mezzanotte, ha bloccato i quattro che avevano già quasi finito il lavoro e stavano per caricare la merce su un mezzo. Soprattutto ferro e zinco caricati su carrelli da supermercato. Due sono stati sorpresi vicino all'edificio, gli altri nel seminterrato che cercavano di nascondersi. Erano entrati da una botola esterna ed erano scesi con delle scale. Sono stati arrestati per furto in concorso e ora sono i domiciliari. Nuova udienza in corte d'assese d'appello del processo sull'omicidio di Roberto Romano, ucciso sull'uscio di casa in via Boccaccio a Ruffano il 24 marzo del 2012. Imputato Michele Svedito Valentini, 27enne di Supersano, arrestato dopo le indagini carabinieri nel nucleo investigativo di Lecce. Il processo si sta celebrando con rito ordinario dinanzi ai giudici della corte d'assise. Tra gli imputati anche Dario Traversa in casa con la vittima è rimasto ferito e accusato di favoreggiamento per non aver rivelato agli inquirenti di identità di Valentini. In aula oggi le ricostruzioni tecniche del medico legale Alberto Tortorella e del colonnello Donghi del RIS di Parma. Tre incendi d'auto nella notte nel sud Salento. Tutti e tre potrebbero essere dolosi. A Dalliste a prendere fuoco una lancia Y e un'Alfa 147 parcheggiate in via De Longhe. Appartengono ad una 38enne e al genero 27enne. A Racala invece in via d'Orabalta e incendio di una lancia Y di un 70enne sul posto è stata trovata una bottiglietta.